Grazie a tutti Ma è casa sto del progetto? Ma che apparecchio è? Il Cardinal, non capissibile che... Vai! vi... prova che no! Yat ripple Amici catella macchina mi ci si può visualiare ma è buono, è sicuramente che la sua bella... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.